Oggi giovedì 25 è la giornata nazionale contro la violenza sulla donna e ho visto tantissime iniziative come le scarpette rosse, le panchine rosse che mi hanno fatto capire una cosa importante che poteva sembrare scontata invece non lo è, ma non si picchiano le donne. Non si picchiano le donne e le panchine rosse e le scarpette rosse funzionano perché l'altro giorno mi prudevano un po' le mani quando ero in fila alle poste c'era una signora avanti a me che faceva tutto con grande lentezza, mi prudevano le mani, poi però ho visto un manifesto con le scarpette rosse e ho detto non si picchiano le donne. Penso sia sempre importante ricordarlo. Per fortuna, per fortuna perché avrei potuto passare dei guai seri perché ricordiamocelo le donne non si picchiano. Ora voglio andarci piano, voglio dire le cose senza provocare per lo meno più di tanto. Queste iniziative che ci sono, le scarpette rosse, le panchine rosse e non so quali altre iniziative si facciano, a me sembrano un po' un'inutilità. Io non credo che i simboli siano inutili. Io non credo che i giorni della memoria delle donne, del sorriso, delle lotte sul cancro siano inutili. Penso siano davvero dei momenti in cui riflettere. Un giorno, si prende un giorno durante l'anno in cui la propria giornata ad un certo punto viene occupata perché è stata organizzata o imposta, dite un po' come volete, però quel giorno durante la giornata ci si prende un attimo di riflessione in più, si affronta il tema da tanti punti di vista. E quindi sono molto favorevole alla giornata contro la violenza sulla donna. Sono molto favorevole alla giornata della memoria, alle giornate di qualsiasi tipo, ripeto, facciano riflettere sulle questioni, che ci fermiamo tutti quanti un attimo e tutti insieme nei bar, sul luogo di lavoro, in famiglia, sui social network. Ci si prenda un po' di tempo per discutere degli argomenti. Però mi sembra che le scarpette rosse, le panchine rosse siano simboli, gesti, azioni da boomer, roba che parla a persone che sono già formate, a persone che la pensano già tutte nello stesso modo. E non credo che il simbolo della scarpetta rossa o della panchina rossa sia particolarmente utile a incanalare il discorso o una riflessione. Immagino l'uomo violento con cui sta quella donna che nel corso del tempo ha sottovalutato alcune alcuni segnali. L'uomo violento lì guardando le scarpette rosse, la comunità tutta che disdegna quella cosa, ci ripensi nel momento in cui appunto gli prudono le mani come male poste, però mi sono fermato a guardare le scarpette rosse, mi sono fermato. Credo che è un peccato che è una giornata come questa, o come quella di ieri per chi lo guarderà un po' successivamente, non abbia, non ci sia stata una riflessione su chi davvero possiamo convincere con i gesti, le azioni e i simboli. Quasi tutto quello che io faccio oggi deriva dalle mie educazioni, sentimentale, sociale, di qualsiasi tipo, dalle esperienze che ho vissuto, dalle cose che ho guardato, dalle cose che ho sentito, dagli esempi che ho ricevuto. E mi chiedo se nella giornata contro la violenza sulla donna queste iniziative delle scarpette o delle panchine siano davvero utili? Facciamo finta che lo siano, ma per chi sarebbero utili? Forse per le giovani generazioni che stanno apprendendo sul mondo, sulle relazioni, sulle differenze tra uomo, donna e tutte le altre questioni che ci sono in questo momento, che non voglio sminuire ma sono davvero così particellari che il video finirebbe tra tre ore. Mi chiedo se queste iniziative siano utili per coloro che davvero possono ancora, su coloro che davvero potranno incidere in futuro sulle statistiche delle violenze domestiche o non sulle donne o non su il famoso femminicidio. Ricordiamo una cosa, il femminicidio a livello criminologico è l'omicidio, cioè è l'uccisione di una donna in quanto donna, cioè una donna viene uccisa per il fatto di essere donna e nel conteggio di questa definizione criminologica ci sono le uccisioni di donne che vengono fatte da donne, da uomini e da qualsiasi altro genere oggi esistente e tutte quelle definizioni particellari che abbiamo. Queste statistiche sono da tempo, da 5-6 anni, in diminuzione o comunque in Italia abbiamo delle statistiche riguardo il femminicidio perlomeno, non riguardo la violenza sulla donna, molto basse. Perché si guarda il femminicidio e non la violenza? Perché le statistiche sulla violenza domestica, come ci ricorda il buon Marco Crepaldi, possono essere sia gonfiate che sgonfiate. Nel senso potrebbero esserci molte più violenze di quelle che sono riportate nelle statistiche perché comunque noi possiamo sapere questo dalle denunce. Però potrebbe essere anche un dato gonfiato perché tante volte alcune denunce, soprattutto durante la separazione, ma non lo dico io, lo dicono giudici, donna che si occupano di separazioni, sono spesso inventate. Però un punto rimane che esiste la violenza sulla donna. E le statistiche fredde possiamo guardarle dal punto di vista più cinico del mondo e dire, ah beh, per fortuna sono poche, sono meno rispetto all'altra del mondo, sono in diminuzione, ma mi sembra comunque giusto tentarti fare tutto il possibile affinché idealmente si arrivi a uno zero o un quantitativo di questi eventi così basso da diventare irrilevante. Sappiamo, non nascondiamoci, non dobbiamo dirci le bugie tra di noi se vogliamo fare una discussione seria, che il rendere così universale e ingigantito il fenomeno della famosa statistica viene uccisa una donna ogni tre giorni, che corrisponde di fatto più o meno 130 femminicidi l'anno, è un numero sicuramente, anche uno sarebbe tanto, però io ho sempre dubitato del fatto che questo debba essere un fenomeno di cui ci si occupa così tanto nella politica in altre sedi, tanto da diventare quasi preponderante rispetto alla violenza in generale. Perché esiste sicuramente la violenza sulla donna, esistono tantissimi altri tipi di violenza che riguardano la donna, ma non solo, anche gli uomini. La violenza per me mi fa brutto vederla, mi fa brutto vederla al cinema, in televisione e quando succede al vivo. Io sono uno di quei pochi che quando scoppia una rissa o una qualsiasi manifestazione violenta non va a vedere cosa succede, cerca di allontanarsi perché mi repelle. E allora torniamo al punto. Ma se proprio vogliamo lottare contro la violenza e soprattutto contro la violenza sulle donne, in quanto fisicamente sono più deboli dell'uomo e quindi è ovvio che ci si preoccupi di più dei più deboli. spero che questo non passi come una provocazione, penso di stare dicendo una cosa banale, poi sono un uomo pieno di pregiudizi, però sono consapevole anche di averli, quindi se qualcuno mi farà capire che sto dicendo a boiato, cioè che la donna non è più debole dell'uomo, sono pronto ad ascoltare. Allora io mi chiedo, ma non sarebbe il caso ad esempio di sfruttare queste giornate per inculcare, potremmo dire così, o settare dei valori su chi è ancora permeabile ai messaggi e ai simboli. Sto parlando dei giovanissimi, delle scuole elementari, medie, chissà forse anche le superiori può funzionare. E questi giovani che saranno il futuro ascoltano o sono sensibili ai simboli delle scarpette e delle panchine, forse se hanno dei buoni insegnanti che sanno raccontarlo, sanno coinvolgerli questi ragazzi, magari anche sì, però diciamolo che non è il modo più naturale di arrivare a loro. Oggi i ragazzi guardano tantissimo TikTok, Instagram un pochino più grandicelli, YouTube, leggono storie adolescenziali quando sono piccole o piccoli, serie tv, anime, leggono fumetti, giocano ai videogiochi, che sono secondo me il media, qua pure mi attirerò un po' di antipatie, sono il media più diseducativo che esista se non su alcuni tipi di persone, su alcuni tipi di famiglie, su alcuni tipi di contesti. Non sto dicendo che siccome ci sono dei giochi dove tu puoi picchiare una prostituta e rubargli soldi come in GTA, allora tutti picchieranno una prostituta e gli ruberanno i soldi come in GTA. Ma che questo tipo di immagine, vissuto tra l'altro, a differenza degli altri media, molto spesso con un'immersione molto più forte, potrebbe causare sui più fragili dei frantendimenti sui valori. Se quando eri piccolo picchiavi con un bastone un cane e tornavi a casa e i tuoi genitori invece di darti uno schiaffo ti regalavano un gelato, c'era un sistema di premio per questa azione che tu, lo valutavi come positiva, nei videogiochi c'è un premio se tu fai questo. E chissà, ripeto, non in tutti, ma nei giovanissimi, con quell'immersione diciamo così, che sono in contesti familiari, sociali o con situazioni psicologiche particolari può portare a delle deviazioni su questo tema, a un certo modo di comportarsi su queste cose. Allora, perché non ci si prepara alla giornata contro la violenza su una donna dove le associazioni, le istituzioni, non investono piuttosto che su questi eventi in pelliccia, in eventi dedicati ai giovani finanziando opere a fumetti promosse poi bene, mettendosi d'accordo con le piattaforme di streaming per creare dei contenuti adatti a questi. C'è Netflix, c'è Prime, c'è Disney, c'è anche Crunchyroll che viene vista da moltissime persone. Ad esempio c'è un fumetto che è il più letto nel mondo, che ha un corrispottivo anime che arriva ancora più persone nel mondo, è forse una delle opere più viste e lette dopo la Bibbia, 480 milioni di copie vendute nel mondo, si chiama One Piece, dove c'è un personaggio, si chiama Sanji Uncuoco, che viene educato dal suo genitore adottivo col principio di non picchiare mai una donna. Durante questo fumetto gli avversari del personaggio saranno sia uomini che donne, mentre gli altri personaggi davanti a una donna che li vuole uccidere reagiscono e combattono, lui piuttosto che toccarle preferisce morire. Si chiama Sanji di One Piece. Voglio farvi vedere delle vignette che ho ricavato da questa storia. C'è qui la sorella di Sanji che gli chiede in ogni caso, volevo chiederti una cosa, questa tua galanteria da dove esce? Lui ricorda i momenti in cui fu adottato dal suo genitore adottivo che era un cuoco, un ex pirata diventato cuoco e lui ricorda i momenti quando era piccolo e stava nelle cucine e c'è qui appunto il suo genitore che dice non voglio più sentire una parola, qui non entrerà mai un cuoco donna. Posso dare una lezione a voi imbecilli con i miei calci, ma non potrei mai fare lo stesso con una donna. Il piccolo Sanji gli chiede perché no? Se non dovesse capire qualcosa impartisce un po' di buonsenso a suon di calci come fai con noi. A che il genitore adottivo gli risponde? Gli uomini non devono colpire le donne idiota, è una legge inviolabile di questo universo fin dai tempi di dinosauri, mentre lo colpivano. dice a calci, no? Ascolta, non mi importa quante volte sbaglierai come essere umano, ma se dovessi sbagliare poi lui aggiunge come uomo, io mi taglierei la gola perché vuol dire che non ti insegno niente. Al che torniamo alla scena post flashback, la sorella aveva chiesto come mai se è così garantuno e lui risponde sto solo seguendo una legge inviolabile di questo universo fin dai tempi di dinosauri. Da piccolo gli è stato insegnato così e così lui si comporta e lo fa con un grande eroismo e questo ovviamente piace un sacco di giovani che volendo sentirsi come quel personaggio, come chi faceva l'onda energetica guardando Goku di Dragon Ball, probabilmente se sei piccolo e ti sarà piaciuto Sanji o lo avrai visto, sarà uno dei tuoi personaggi preferiti, probabilmente quel valore entrerà dentro di te come a mio parere molte delle battaglie per l'integrazione, per l'accettazione dell'omosessualità, della transessualità e di tutte queste tematiche che sono oggi tanto 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 discusse, secondo me questa è una battaglia già vinta, le nuove generazioni sono lontane a ogni luce dai preconcetti che avevano la generazione prima della nostra e ancora qualcuno della nostra, man mano che andiamo avanti sparirà e vi basta vedere veramente su TikTok quanto i giovani siamo sensibili al tema dell'inclusività, della diversità, della disabilità eccetera eccetera. Allora seppur su di me le scarpette e la panchina hanno funzionato perché mi prudevano le mani ma mi sono fermato, ok continuiamo a fare queste iniziative però cerchiamo secondo me di rendere le giornate queste giornate un pochino più utili riflettendo su chi davvero possiamo insegnargli delle leggi che risalgono ai tempi dei dinosauri e se ne ricorderanno poi in futuro. Spero che si capisca il discorso e che non mi recchi particolari polemiche però mi andava di dirlo qui su Delimello la mossa e non ti aspetti vedete il pedone col piccione no vabbè vi saluto ciao a tutti